La sport è uno sport che ti porta a star bene, ti porta a star bene a guarire. Sono appena partite le ragazze dello Iov e loro sono quelle che ci fanno capire che cosa, che è bello vivere. Bisogna fare di tutto per continuare a vivere. Solo con la forza che abbiamo dentro di noi, la maggioranza delle volte riusciamo anche a superare questi momenti negativi che tutti li abbiamo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla decima edizione della marcia 4 passi tra fonti e canaia vololenta. Ciao ciao! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti!